SILVANIAN FAMILIES Ciao Stella! Ciao ragazzi! SILVANIAN FAMILIES MINI EPISODI Gli abitanti del villaggio SILVANIAN stanno trascorrendo una buona giornata. Freya ha una fantastica sorella che vive in città. Guardate, è arrivato un pacchetto proprio da lei! Wow! È un regalo! Me l'ha inviato Stella! Che vestito meraviglioso! Oh, c'è una lettera! Mia carissima sorella Freya, come stai? Spero tanto che ti piaccia il nuovo... Ti piaccia il nuovo vestito che ho disegnato. Il tempo è davvero magnifico oggi qui in città. Ho anche preso il tram per raggiungere i grandi magazzini dove lavoro. Buongiorno, Lulu! Buongiorno, Stella! Sarà un'altra giornata impegnativa. È vero. Fate largo! Buongiorno! Ci vediamo! Oh, cara Laura! Che sciocchina! Ho creato una nuova ricetta per il mio cioccolato! Entriamo! Le mie migliori amiche sono Lulu e Laura. Lulu è una ragazza molto gentile. Rossetto e Fard le piace, signora. Grazie! È proprio ciò che volevo. Lulu è una truccatrice e rende le sue clienti meravigliose. Laura lavora il cioccolato e gli dà delle forme talmente belle che sembrano gioielli. Gnam! È perfetto! Lei stessa ammette di mangiarne troppo. Spesso ceniamo tutte insieme mentre ascoltiamo Lionel al piano. Bravo, Lionel! Lionel sembra calmo e sicuro di sé, ma in realtà è molto timido. Tutti amano il proprio lavoro e ci divertiamo ogni giorno. Mi piacerebbe raccontarti di più e mostrartelo, Freya. Benvenuta, signora! Quindi indossa l'abito e vieni presto a trovarmi con la mamma! Aspetta! Aspetta! SIGLA